YOLANDA SWEETS Sono curiosa di andare a vedere L'altra volta era rimasta un pochino Diciamo Delusa perché Non c'era il Come si dice Non c'era il cioccolato all'interno Non essendoci il cioccolato Non ho potuto concludere come si dice nel video Ma alla fine ce l'ho fatta Oggi vediamo se ci esce Tutto dall'interno Allora Come sempre la nostra confection E' questa qui con il nostro libricino Che bello guardate Il libro delle LOL Surprise Con le avvertenze Di come fare Le nostre caramelline Secondo me sono fatti di gelatina Qualcosa mi dice Che sono fatti di gelatina Allora Sì che bello Sì ci è uscito tutto Evviva Allora come vedete è fatto dalla MGA Dalla MGA Togliamo lo scatolo Voilà Ci sono uscite tutte le cose all'interno Quindi l'alzatina E tutte le cosine Qua abbiamo Tutte le cose per Fare Le nostre Eeeh Voilà tutto Le nostre caramelle Allora Perché ci sono le cannucce Dopo lo scopriremo Allora Ci sono come sempre I pirottini piccolini Piccini piccini Sono molto carini Le stecchettine per fare Il lecca lecca Questa volta Il lecca lecca A duro Ma sono le stesse Dell'altra volta Mi sa di sì Sì ragazzi Sì ragazzi Sì ragazzi Sono mi pare gli stessi Giusto Gli stessi stampi Qua abbiamo Tre cannucce Dopo vedremo l'utilità Una vaschetta Dei pirottini E qua abbiamo le cose Finalmente Per fare Le nostre cose Le nostre caramelle Gelatine alimentare Amido Alimentare in polvere di mais Amido alimentare in polvere di mais Pectina alimentare Che serve per fare le caramelle Ok Qua ci sono le avvertenze E ci sono Le nostre ricette Per fare le caramelline Andiamo a sfogliare Il Il libricino Vediamo Un dolcissimo laboratorio Guardate Trasformare lo zucchero Uuu Vedete Questo Per fare Le caramelle Con lo zucchero Però io Sono curiosa Di vedere Come dobbiamo fare Con quello Insomma Vediamo un po' Uuu Guardate Succo di frutta Zucchero Gelatina Mezza bustina 100 ml d'acqua Ci serve un pentolino Un cucchiato di metallo Guanto da forno Cannucce Forbici Elastico Uuu Ecco perché Vedete Ah Bene Ecco 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 Allora Facciamo una cosa Io mi vado a leggere bene tutte le istruzioni Ok E vediamo insieme come fare queste caramelle Allora ragazzi Ho pensato di fare questa qui Perché sono quelli più fattibili Insomma Gli altri sono un po' più particolari Ci serve Succo di frutta Che non so se ho Ma penso di usare la marmellata Spero sia la stessa cosa 30 grammi di zucchero Gelatina Mezza bustina Che è questa qui Acqua Poi ci serve un pentolino Cucchiaio di metallo Guanto da forno Cannucce Vabbè Io li vado a mettere direttamente In questi stampini qua Le cannucce non le userò Lo metto nello stampino Direttamente delle lol E io nel frattempo Vado a fare questo Che mi dicono le istruzioni E poi vi faccio vedere Quando li metto negli stampini Il procedimento è semplice Bisogna prendere Il succo di frutta Riscaldarlo con un pentolino E la gelatina Da sciogliere dentro Mezza bustina Poi si bisogna riscaldare Nel microonde Per 3 minuti 100 ml di acqua Poi dobbiamo unire tutto Praticamente mescolare E unire all'interno Del vassoietto Degli stampini E poi bisogna farlo raffreddare E quando è raffreddato E sono pronti Possiamo sformarli Io vado a fare La procedimentazione Con Con tutta questa roba qui E noi ci vediamo dopo Quando è pronto il miscuglio Oh Ce l'abbiamo fatta Non so se si vede Ma la mia pentola è pronta Con Il liquido Con la gelatina all'interno Praticamente Ah Il frutto di bosco Ok Versiamo delicatamente Il composto Con La gelatina All'interno del Del mio Lecca lecca Ok Sarà un po' difficile Perché Chi lo sa Se riesce a prendere bene Tutto il lecca lecca Ok Vado a mettere Delicatamente Assaggiamo Si Oddio E' molto buono E' dolce Ok Qui farò Un danno Andiamo a riempire Tutte le caramelline Ok Vediamo un po' Se ci riesco Senza fare Un guaio Wow Sto riempiendo Si Però Yolanda Non fare danni Insomma Ok Anche perché Questa qua Adesso E' liquida Però poi Si andrà Ad addensare Tipo come lo slime Si andrà Ad addensare Nel frigorifero Perché la gelatina Fa Ecco Vabbè Tutto Buttato qui Eeeh La gelatina Praticamente Farà Addensare Tutto il nostro Stavo dicendo Il nostro slime Tutto Le nostre caramelle Ok Allora Questa adesso è un po' difficile Quindi devo metterla Da parte E' un po' difficile Metterla in frigo Insomma Ok Io aspetto Prima che si solidifichi Un pochettino Allora Ecco qua Abbiamo fatto Abbiamo messo La nostra acqua Con La Con la gelatina All'interno Del nostro stampino Eeeh Ho fatto Vedete Non so se si vede Ma è un po' Violettino Perché ha i frutti di bosco Adesso Assaggiamo com'è Oh Mmm Buono Che si senti i frutti di bosco Bene Eeeh Devo aspettare E incrocio solamente le dita Sperando che venga Nel frattempo Mentre aspettiamo Io mi vado a montare Questa Che è l'alzatina Per farvela vedere Con Nei dettagli tutto E niente Adesso io metto da parte questo Monto l'alzatina con voi E poi Dobbiamo aspettare Questo video sarà Abbastanza lungo Aspetto prima che Si assesti questo Questo lo mettiamo da parte E prepariamo la nostra Alzatina Uh che bello Qua sempre per mettere Che bellina E sempre per mettere Le nostre Le nostre caramelline All'interno Praticamente Sopra Che carine Guardate Oddio che belli Che belli Anche questo Le nostre Vedete le nostre Faccine delle lol E poi c'è anche questo qui Rodbit Che bello E questa qui È l'alzatina Qua ci sono le varie Le varie cose Che bisogna togliere Uno Due Tre E quattro Che bella Questa alzatina Oddio Tra questa è quella Veramente Quella dell'altra volta Non saprei quale scegliere Allora Queste due Penso Bisogna Inserirle Così Almeno credo Sì Bisogna inserirle Così E questo va Così Oh Semplice Semplice Facile Facile Molto Semplice Ok Anche questa qui Potrei usarla Poi in futuro Per gli slime Uh carina E qua dove possiamo mettere Appunto Le nostre caramelle Da mettere Così Voilà Che carino E mettere questo Anche al centro Molto molto bella La nostra alzatina È pronta Queste bisogna Andarle poi A conservare Adesso devo solamente Aspettare che le mie caramelle Si solidifichino E io Bra Solidifichino È difficilissimo Indovinate Voi riuscite a dire Solidifichino Solidifichino E indovinate in questo video A che minuto esce la parola Solidifichino Vediamo se indovinate Ok Eh va bene Aspettiamo E vediamo il risultato finale Allora ragazzi Rieccomi tornata E le mie caramelle Sono pronte Le volete vedere Oh No Assolutamente No Volete vedere una cosa Volete Guardate quanto sono belle Gelatinose Gelatinosissime Wow Quanto sono belle Le mie caramelle Bellissime Ok ragazzi Sicuramente Cioè probabilmente Avrò sbagliato io Qualcosa Le ho messe in frigo Dovevano andare in frigo Si Quindi questo video Mi sa che è stato Un grandissimo Epic fail Io vedrò di prendere Qualche altro set Da Da internet Di queste lol Magari lo proviamo Ancora insieme Ma è stato Un totale Epic fail Questo Mi viene da piangere Sono stata Io che ho sbagliato qualcosa Vi prego Che qualcuno mi dica I corretti passaggi E procedimentazione Di questa cosa Vi prego Perché Veramente Non lo so Anche perché io Cioè comunque di regola Quando inserisci La gelatina All'interno dell'acqua Se è una gelatina Bella forte Anche perché ho messo Tutta la bustina Ve la posso garantire In pochissima acqua Quindi di regola Comunque si deve solidificare Se è gelatina Ed ho messo quella giusta Quindi È un problema della gelatina Perché è possibile Che non si solidifica E certamente Ovvio Non lo so ragazzi Comunque Niente Sono delusissima Sono stata io Lo so Ma l'unica cosa Che mi rimane di carino È l'alzatina Va bene Ho cambiato anche Inquadratura Ma pazienza Va bene Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Sperando in un video migliore Delle lol La prossima volta Vedrò di comprare Anche una lol Magari adesso Per questo Natale Di farvi qualche video Delle lol E niente raga Grazie mille Per aver visto questo video Io vi mando Un enorme bacione Un abbraccio mega fortissimo A tutti quanti voi E noi come sempre Ci vediamo domani Alle ore 14.30 Con un nuovo video Bye